Grandi novità sul futuro di Alessia Marcuzzi. In queste ore è stata lanciata un'indiscrezione sui suoi probabili prossimi impegni in tv. Come ormai è noto, Alessia Marcuzzi e Mediaset si sono detti addio. La conduttrice ha annunciato qualche settimana fa di aver deciso di prendersi una pausa e dedicarsi a se stessa perché non più a suo agio nei programmi che le venivano proposti sui canali di proprietà Berlusconi. Qui ha cominciato la sua carriera ben 25 anni fa, per cui nel suo accorato saluto alla tv ha ringraziato tutti per la possibilità che le è stata data. A spingerla verso questa decisione, a suo dire, anche i recenti avvenimenti sanitari che hanno coinvolto il mondo. La pandemia e i momenti di solitudine l'hanno spinta a ripensare alle priorità della sua vita. Così, ha deciso di rallentare e quest'estate si sta godendo le vacanze senza troppe pressioni. Tuttavia, nelle ultime ore il settimanale Diva e Donna ha pubblicato un'indiscrezione che la riguarda. Stando a quanto riportato dal settimanale, Millie Carlucci sarebbe in trattativa con la conduttrice per portarla nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Nulla di certo e non si sa neanche in quale veste. Se come concorrente effettiva o come ballerina per una notte. Se dovesse essere confermato, sarebbe un bel colpo per lo show. Così come con Antonella Clerici che pare sia anche tra le corteggiate di Millie per entrare a far parte dello show. Non resta che attendere ottobre per capire se tutte queste voci saranno confermate o meno. Se sì, si prospetta una edizione scoppiettante visti già i nomi confermati, Morgan in testa e a seguire Federico Fashion Style, Sabina Guzzanti, Sabrina Salerno.